Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione Costi c'è la palla in mezzo, la palla con l'occasione, gol per Milica, 7 dalla fine, più recupero, Cremonese 0, Juventus 0, iscrivetevi al canale, like al video, commenti, commenti, commenti che finalmente si era iniziato a giocare il campionato e la campanella per essere raggiunti dai nuovi video, mentre prima c'era stata nazione con un tiro cross, era un cross più che un tiro dal fondo della Cremonese che è andato a prendere il suo secondo palo, la Juventus ha avuto una doppia clamorosa occasione, entra Ilich, esce Costi che non ce la fa più, 6 alla fine, più il recupero a Cremona 0-0 tra Cremonese e Juventus, ma doppia occasione clamorosa della Juventus con carne secca, questo portiere della Cremonese che prima ha detto di non arrabbiò, ma poi Akena, botta sicura proprio davanti a lui, è riuscito a respingere, poi sul contropiede della Cremonese ha salvato anche Tec per noi, adesso attenzione ancora, e si attacca da una parte e dall'altra, 85-5 alla fine più il recupero, una partita che è stata, non dico scialba, però difficile, complicata, combattuta, a tratti anche Moscia con degli errori, con pochissime, quasi rare occasioni da gol, si è improvvisamente accesa nel quarto d'ora finale, attenzione adesso che la Cremonese ovviamente cerca con tutte quelle che sono le sue possibilità di andare anche lei quando è in possesso palla all'assalto, mentre il possesso palla della partita è il 60% quasi a favore della Juventus e le conclusioni verso la piorta sono più nostre, i corner ne abbiamo battuti in una quantità industriale, ma questo non conta perché la partita è sullo 0-0, quindi per vincerla bisognava fare qualcosa di più, vediamo se riusciamo con un guizzo nella parte proprio conclusiva, è la Cremonese che va dall'altra parte, ma forse c'è un tocco di mano, palla che va sul fondo, nel primo tempo le scelte di Allegri sono state conservative, con Chiesa, Rabiot e Ken che partivano dalla panchina, a Sule la fascia destra, a Kostic quella da sinistra, abbiamo giocato poco sulla corsia di Kostic che si è creata una palla a gol da solo con una conclusione veramente a fil di palo, siamo andati molto di più dove operava Sule che con il sinistro partendo dalla destra, quindi entrando dentro il campo dal limite si è creato anche lui due bellissime conclusioni, due belle parate, Plastic per quelle in tuffo, niente di eccezionale da parte di Carne Secchi, poi la Cremonese invece nella ripresa ha preso un palo clamoroso proprio con un tiro secchissimo che Scesni ha soltanto potuto guardare, mentre intanto Scanavino e Cherubini che oggi fa gli anni auguri 52, dove vengono inquadrate in tribuna mentre mancano tre e mezzo alla fine più recupero con le facce ovviamente preoccupate, si sapeva che sarebbe stata una gara difficoltosa? Sì, si sapeva, si sapeva che i 52 giorni che hanno separato il Mondiale da questo rinizio del campionato non avrebbero cambiato nulla? Sì, si sapeva perché praticamente si è allenati, si sono fatti le amichevoli con le Under 23, si sapeva di Ken che carica il testo ancora carne secca, questa volta era potente ma centrale la conclusione di Moise, e quindi più semplice la parata di Carne Secchi che chiude la sua porta, quindi si sapeva che la squadra era questa, sì, si pensava di avere delle difficoltà però poi magari di vincerla questa partita e a tre dalla fine non sta capitando, però fino alla fine il nostro motto, eccoci ancora dentro l'area di rigore, palla ribattuta su Chiesa, Chiesa che è entrato nel secondo tempo ha cambiato sicuramente con Guizzi e con velocità la gara, però è ancora ovviamente un Chiesa lontanissimo da quello al 100% delle sue capacità psicofisiche, altro corner per noi, 87 e 30, siamo 7 dentro la loro area di rigore, cross alto, stacca Bremer, palla deviata, attenzione al contropiede della Cremonese che però incespica per nostra fortuna sul pallone e quindi lo riconquistiamo, adesso calma, Locatelli può aprire sulla corsia di destra, c'è un po' di spazio per Chiesa, il cross in mezzo, testa di Ken che non riesce a girare in porta, il pallone però non è uscito, lo tiene in campo? No, lo tiene in campo? No, lo tiene in campo? No, Healing Junior, dice l'arbitro Airoldi che nel primo tempo insieme al Var Mazzolini giustamente, correttamente, ha annullato anche due gol alla Cremonese, uno per fuorigioco e il secondo per fallo netto ai danni di Danilo che era saltato per primo sul pallone, ci ha provato anche Miretti dalla distanza, Miretti e Fagioli si sono scambiati molto le posizioni nel primo tempo, a me comunque Miretti sottopunta, opinione personalissima, finisce per non piacere, lo preferisco molto di più quando fa la mezzala, comunque l'interno di centrocampo, cosa che ha fatto con i cambi a inizio secondo tempo il mister, modificando un po' l'assetto soprattutto quando è entrato Chiesa, è diventato un 3-5-2 più classico con Millic e Ken attaccanti e Chiesa largo a destra e Costice a sinistra, adesso Rabiot di prepotenza va via centralmente, fallo lì, oi, Airoldi, ah buona, fallo, 88 e 50, attenzione, 88 e 50, calcio di punizione per noi, Rabiot è entrato bene in campo, con Paredes, Paredes si è visto un po' di meno, ma Rabiot lo abbiamo lasciato al Mondiale così e ce lo ritroviamo così, almeno questa è una certezza, poi naturalmente ci sono i soliti infortunati, quindi è ancora una Juventus, non dico virtuale, ma lontana da quella pensatene state, perché comunque Pogba non c'è, perché comunque Blauvic non c'è, perché comunque Di Maria ancora una volta non c'è e Chiesa sta recuperando e quindi è entrato nel secondo tempo, quindi diciamo i tre giocatori più importanti dell'impianto di gioco del progetto tecnico della Juve, ancora non li abbiamo al pieno a disposizione, 89 e 35, Cremonese 0, Juve 0, ma c'è una palletta bella bella, siamo a 24 metri, 23, Paredes e Milik a parlottare, occhio che anche Milik è un calciante da punizione, c'è Chiesa ma si allontana, Paredes con il destro, Milik con il sinistro, sta per scoccare il novantesimo minuto, poi sarà solo recupero, punizione Juve, 5, 4, 3, 2, 1, 4 di recupero, parte Milik, gol! la Juve in gol con Arbadius, Milik, che punizioncella, che punizioncella, il cerchio magico tutti addosso a Milik e ce l'abbiamo fatta, 1-0 per noi, Milik sotto il settore ospiti, pieno, strapieno, che all'inizio della partita ha messo uno striscione per ricordare la battaglia che invece sta combattendo da un'altra parte Gianluca Vialli, Gianluca Vialli segna per noi, citava lo striscione Milik, non è Vialli, però ha fatto un gol su punizione, va che bello come è girato, e qui Carnesecchi leggermente in ritardo, perché la palla ha girato, è rimbalzata, e lui quasi l'ha presa, è sul palo lungo, però non è riuscito ad andare alla deviazione, era riuscito nell'impresa Carnesecchi di fare due parate clamorose, clamorose in questo secondo tempo, e qua sulla punizione intelligente di Milik, che ha il settimo gol con la maglia della Juventus, non male, Arcadius, molto intelligente, perché invece che fare il classico tiro a giro alto che scende, che scende con la parabola verso l'incrocio, lo ha fatto rimbalzare dopo la barriera, e quindi lì è andato a mettere in estrema difficoltà Carnesecchi, 91 minuti, 25 secondi, 4 minuti di recupero, Juventus 1, Cremonese 0, il gol è di Milik, e adesso Allegri ovviamente si sbraccia dalla panchina, perché intravede ancora una volta la possibilità di allungare la striscia vincente della Juventus, senza tra l'altro subire gol 91 e 48, Cremonese che subito naturalmente riparte verso la nostra area di rigore, adesso siamo chiusi sulle due linee, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, anche di Lingiunio che però non riesce a rinviare perché scivola, allora ancora tutta la Cremonese nella nostra metà campo, due minuti dei quattro di recupero, mancano, attenzione, la verticalizzazione della Cremo, poi Juventus però riesce a chiudersi, allora allarga tutto a destra il gioco alla Cremonese, cross in mezzo che può essere pericoloso, riesce a liberare addirittura Paredes a centro area, poi Ken a lottare, bravo Moise, Moise, Moise contro due, la finta di Moise, se l'allunga tunnel di Moise, Moise va via in velocità verso l'area di rigore, attenzione Moise, l'appoggio bellissimo dall'altra parte, dove c'è ancora la possibilità per Paredes, la conclusione dalla lunghissima distanza con i pugni, riesce ancora una volta a deviare il pallone, carne secchi 92 e 37, ancora Paredes incattivito che lotta a riconquistarsi, un pallone lo tiene sulla linea del campo verso il settore ospiti, poi si piglia una bella scalciatina, si alza la bandierina, arriva il cartellino, calcio di punizione Juventus e cartellino giallo anche per Lokosvili, e così intanto il tempo passa, e qui, attenzione, Paredes è stato bravissimo, prima nella conclusione tentata giustamente dalla distanza perché ha visto la porta, e poi andare subito a riconquistare il pallone, a difenderlo, a prendersi il calcio di punizione, a far ammonire l'avversario, e a far passare dei secondi preziosi, e allora ricordiamo che questa nuova giornata di Serie A, il campionato che riparte, è iniziata a mezzogiorno e mezza, col Mila che ha vinto di misura 2-1 a Salerno, con l'Atalanta che perdeva 2-0 contro la Spezia, e ha fatto 2-2, con la Roma che ha vinto 1-0, giocando malissimo in casa, proprio di corto musissimo, contro il Bologna, con la Lazio che ha perso a Lecce per 2-1, e la Juventus, cosa che interessa di più a noi in questo momento, sta vincendo 1-0 a Cremone, quindi vorrebbe dire allungare un po' sulla Lazio, tenere le distanze dalla Roma, allungare un po' sulla Atalanta, tenere i due punti dal Milan che ha il secondo posto, e vedere quello che succede nella partita di questa sera, che in questo momento non sappiamo come finirà, ma sicuramente a San Siro qualcuna delle due dei punti perderà, che fa pure rima, e quindi questo tutto a nostro avvantaggio, 93-58, 93-59, 94, erano 4 i minuti di recupero, ai Roddi siamo a 94-04, dove ho 5-06, però la palla è nostra, farò laterale, palla dentro il campo, attenzione, l'arbitro non sembra voler fischiare, fa giocare ancora, occhio ragazzi che ci saranno forse allora 30 secondi supplementari, cerchiamo di andare via in dribbling sulla corsia di destra del nostro attacco, palla sciuppata e persa, ma sbaglia anche la Cremonese, allora possiamo distenderci, Ken detta lo spazio, il pallone non gli arriva, batti e ribatti, Rabiot, ovviamente sulla seconda palla, però ha fischiato l'arbitro, precedenza c'è il fallo per la Cremonese, adesso la Cremonese giustamente vuole accelerare, Paredes e Ken vanno a litigare, 94-40, Ken fermato dall'arbitro, gli dà anche il cartellino giallo, quarto ammonito, nelle file della Juventus, anche Moise che è 94-50, e allora i 4 minuti di recupero, Mondiale in segna, diventano di più, calcio di punizione per la Cremonese, 95, ancora uno sembra voler dir l'arbitro, attenzione non è finita, Cremonese 0, Juventus 1, siamo in vantaggio grazie al calcio di punizione stupendo, dal punto di vista stilistico e dell'idea, di Arkadius Milik, batte il piazzato la Cremonese, la Juventus si rintana dentro la sua metà campo, per difendere con tutte le linee a disposizione, questo preziosissimo vantaggio, palla buttata nel mucchio della Cremonese, stacca in difesa Ken, ancora però il pallone arriva tra i piedi dei giocatori della Cremonese, il Ling Junior a fare da filtro difensivo, poi la scivolata di Danilo, Danilo Breme è gatti enormi, oggi enormi veramente, 95-40, fallo laterale della Cremonese in attacco, palla dentro l'area di rigore, stacco di Rabiot, nuovo fallo laterale a favore della Cremonese, 95-50, Eroldi non fa finire questa partita, falla finire Eroldi che ci portiamo a casa altri tre punti, e abbiamo ancora delle speranze per un campionato che si allunga, perché altrimenti nella situazione in cui siamo, perdere dei punti vorrebbe dire una fine anticipata, mentre addirittura rivedendo il replay della punizione di Milik, che è andato anche a sfiorare proprio il palo interno, prima di finire dentro la porta, 96-14, ancora Sernicola che va a battere lungo con le mani dentro l'area di rigore, fallo laterale, allunga il pallone di testa, Ken ancora in fallo laterale, è il terzo consecutivo a favore della Cremonese, che rimane sempre lì, vicino alla bandierina del corner, altro colpo di testa dei nostri, altro fallo laterale per la Cremonese, è il quarto consecutivo, 96-35, ma quello che conta è tenerli fuori dalla nostra area di rigore, attenzione a Sernicola, palla con il cross in mezzo, l'uscita di Sernic e Smanaccia, il limite dell'area di rigore, conclusione ribattuta, 96-44, palla nella metà campo, non c'è più tempo, arriva 1, arriva 2 e arriva 3, come i tre punti che si prende la Juve, finisce a Cremona, che sudata, che fatica, ma l'abbiamo conquistata, gol di Milik, Cremonese 0, Juventus 1, siamo sempre terzi alla caccia del secondo posto, iscrivetevi al canale, like al video, commenti e la campanella.